Una giornata di protesta per accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento dei migranti e cui vengono sottoposti nelle aziende agricole della fascia trasformata. Questo è il tema dell'iniziativa in programma domani, organizzato dalla USB. Dalle 8.30 alle 10.30, Settina si terrà di fronte alla questura di Ragusa. Dalle 11 alle 13 la protesta si sposterà in Piazza San Giovanni di fronte al Tribunale. La partecipazione di molti lavoratori migranti a queste iniziative di lotta, sottolinea l'USB, come anche l'ampia partecipazione all'Assemblea del 21 luglio ad Acate, sono la dimostrazione di una crescita delle lotte dei lavoratori migranti che si stanno organizzando insieme al sindacato. Inoltre in tutta Italia registriamo gravissimi ritardi nel rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno a fronte della legge che parla di 60 giorni. Questi ricarti comportano ulteriori ostacoli e ricatti. La giornata di lotta serve anche a chiedere verità e giustizia per Daudà. Manifesteremo davanti al Tribunale di Ragusa per chiedere che le indagini non vengano archiviate, conclude l'USB e che siano date delle risposte alla famiglia, agli amici e ai lavoratori tutti.